Il comune di Brindisi ha ottenuto un finanziamento di 2,45 milioni per un nuovo asilo nido nell'ex caserma Ederle. Sono stati stanziati anche 1,65 milioni per ricostruire un asilo nido alla Rione Santa Chiara. I fondi arrivano dal PNRR. Ed è questa l'ex caserma Ederle a Brindisi dove tra poco sogerà un nuovo asilo nido nel pieno centro storico grazie ai fondi PNRR dopo una riqualificazione esterna già effettuata proprio dalla comune di Brindisi. Dopo aver effettuato quindi una riqualificazione esterna di quest'area come vediamo dalle immagini con fondi comunali ora sarà possibile adeguare la struttura affinché diventi un luogo adeguato sempre di più ai bambini piccoli che potranno qui crescere e giocare in sicurezza. Soddisfazione espressa per il finanziamento da parte del sindaco Rossi che ne ha dato notizie attraverso i social ma anche da parte dell'assessore ai lavori pubblici della comune di Brindisi Tiziana Brigante. Buone notizie su questo fronte arrivano anche da Francavilla Fontana dove è stato finanziato il progetto per il recupero della scuola di via Bilotta. La scuola potrà presto tornare ad ospitare bambine e bambini. L'amministrazione comunale infatti ha ottenuto un finanziamento di circa 830 mila euro con fondi della PNRR per la messa in sicurezza e la riqualificazione dell'immobile che diventerà un nuovo asilo unido. Il progetto dei lavori prevede la rigenerazione dell'edificio con l'adeguamento alle norme antisismiche, la realizzazione degli impianti idrico, foniario, elettrico, termico e la realizzazione di nuovi solai e balconi. Il tutto corredato con gli impianti fotovoltaici per la produzione di elettricità e acqua calda.